Sì, è una scelta che mi ha lasciato veramente molto deluso, io credo che sia stata una scelta che non ha minimamente tenuto conto delle necessità di sviluppo di questo grande aeroporto, di questo territorio, è una scelta che non ha neppure considerato le valutazioni che erano state fatte e non ha neppure tenuto conto le valutazioni di tutto il territorio, perché tutti i sindaci avevano votato favorevolmente a questa proposta, oltretutto dicendo che erano admissibili, che erano accettate tutte le altre proposte che o erano già state escluse da ANAC o si erano rivelate irrealizzabili. Stiamo valutando l'opportunità, si può ancora fare qualche iniziativa, ho avuto ieri un contatto con il Ministro Picchetto il quale mi ha detto che anche da parte sua ci sarà un attenzionamento ulteriore al problema.